Patrick il paparazzo ora tocca a Patrick a stare dietro l'obiettivo nel museo di Atlantide speriamo che non se lo mangi con tutto ciò che riesce a ingerire come fa a mantenere quella linea slanciata hanno finito i commenti sensati mi sa in questo gioco adesso tocca a Patrick mettersi a fotografare ci servono foto ricordo della gita ad Atlantide da mostrare a chi è rimasto a casa cerca gli oggetti che brillano e assicurati di fotografarli puoi scattare foto anche ad altre cose che sembrino interessanti chissà quali segreti si celano nel museo va bene fai attenzione alle guardie di Atlantide però ce l'hanno a morte con chi scatta fotografie con il flash eh beh certo potrei usare le foto per una presentazione del titolo la mia gita ad Atlantide e mostrarla alla scuola nautica la signora Puff ama le mie presentazioni estemporanee le fanno salire sempre le lacrime agli occhi sono sicuro fotografa tutti i reperti fai attenzione ai vasi d'accordo non vedo l'ora di fotografare quella bolla antichissima anche uccidere le meduse quindi fa punteggio me lo devo ricordare questa cosa presa presa ah è vero che nel livello scorso questa è buona ho finito i patti oddio ho preso un vaso ma povero sopevo che le sirene avessero le mani a questo preso si ecco fatto vai aprimi come farsi odiare da un'intera civiltà vi preghiamo di astenervi da scattare foto ah ah come no guarda sto rispettando esattamente questa regola bello tra l'altro il coso preso dicevo bello tra l'altro il coso lì per dipingere preso per dipingere fatto che ruminizza i smeraldi ma mi ha sparato sarà meglio prendere più patti patti dove siete mi hanno sparato si ricorda che le macchine sono che mi si restringono i patti ok fatto ho finito i patti preso preso altri che mi si restringono i patti ho finito i patti vai 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 muoviti 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 quello strumento è tutto ma tra l'altro in realtà ho finito i patti io non ho ben capito quello che c'è sotto le fotografie perché in realtà è il robottino che gira ma non ho capito se devo se devo colpirlo o no allora che sta dicendo Patrick preso non per vantarmi ma quella è proprio pavolosa mannaggia ne abbiamo appena saltato uno per mille tamburelli guarda che roba preso eh lo so Spongebro lo so cosa fa Spongebro ok cos'è sto robo ah questo è un teletrasporto guarda che roba se lanciamo un teletrasporto scopriamolo d'accordo fotografia potrei diventare un famoso fotografo di stelle ma dove sta andando benvenuti vi preghiamo di astenervi da scattare foto questa è buona non lo so se questo era quella stella marina ha una macchina fotografica sono a pezzi sono a pezzi sono a pezzi è l'ora degli scacchi felici è l'ora dello sbusto è l'ora del pacchetto che si apre o che si apre dentro c'è un figurino o forse un ninolino che si apre un due un due un due a chi tocca preparare il caffè ah boh io ripeto io continuo questa è buona ad andare totalmente random e lancia un patty contro la risposta esatta se un albero porta frutti in inverno allora chi viene da Vecchers? scendi affermativo ah è un macchina ah ok quello di prima era rotto non analizzate l'arte eccessivamente più patty più patty wow sono un vero paletto ah ma dovevo fotografarlo il robottino ma mica era io pensavo di doverlo distruggere ma chi mai me l'ha specificato che dovevo fotografare anche i robottini si ricorda che hai vietato fotografare nel museo bella la foto di sto tizio comunque no vabbè stiamo facendo una strage noi intanto ma porca ma è velocissima ma che a volte è difficile sarà meglio che mi ripornisca di patty tipo colpendo qua più patty più patty ecco fatto vabbè io ti giuro vabbè io ti giuro che vado ormai davanti ad oltranza che cazzo è morto ragazzi dammi a sentire stellina rosa io farò delle domande tu dovrai rispondere lanciando un patty contro una delle tre risposte se togli i cinque dugonghi da tre lamantini chi è di colore verde planton affermativo vabbè domande a ca... supercazzo preso eh lo vedo già fatto già fatto quello ma dai ma come avrei dovuto colpirla quella cioè devi colpirla e poi anche fare la domanda cioè fai la fotografia boh vabbè non è che è mai specificata queste cose ecco fa no ancora buona visita ok io sfammo a un certo punto dai preso ne arrivano altri di sicuro mister crab questo questa risposta è mister crab io ti faccio una domanda e tu devi battere la risposta giusta con un patty se il sodio fa reazione con l'acqua allora quale dei seguenti ama il denaro mister crab risposta saggia se giro a destra ad un incrocio quanto è la distanza dal sole della terra ma non fa non fa vabbè dai chi se ne frega fate al cervello qualsiasi domanda esso conosce ogni risposta non sento c'è troppo rumore ciao patrick qual è la differenza tra un turista e una forza d'invasione la forza d'invasione è più onesta solo se inizi a usare il filo interventale altro ehi non voglio mica restare qui tutto il giorno ehi già fatto già fatto vai avanti hai scattato foto sagaci dovresti vedere con che tecnica poi difficile tra l'altro altra zona altra zona fotografa tutti i reperti ok stavo cercando di capire cosa fossero ma benvenuti vi preghiamo di astenervi ad aspettare pop è arrivato a un certo punto smetti di chiedere fai solo le fotografie va bene uguale dai farò delle foto stupende ok fatto fatto hai fatto queste belle foto e anche più di una io devo essere enorme già fatta questa già fatta presa arriva gente ovvio che arriva gente preso questo l'avevo già preso benvenuti vi preghiamo di astenervi da scattare pop ecco fatto arriva qualcun altro preso ma che ero quello il museo di appartite ospiterà la gara di pesatura dei cervelli di quest'anno la gara di pesatura dei cervelli e allora Patrick mi sa che no eh niente più fatti si ah sai cosa credo che se spammi in un punto sbagliato comunque lui non ti prende la fotografia continuamente che è successo il museo è gratuito per i turisti entrate ho terminato le mie fatti munizioni boh vabbè questo non è una fotografia a quanto pare questo si arriva gente presa bella posso avere un biglietto per la luna questo museo è alimentato dalla conoscenza liquida va bene quello che vuoi no ah fuck prenderemo forse anche il bronzo sai sarà meglio che mi riforniti posso avere un biglietto per la luna questo è buono per l'album di sicuro prenderemo il bronzo guarda buona visita ormai siamo qua da vent'anni macchinino macchinino però meglio prendere più pacchi niente più palle no ma che palle dai ma che palle che non prende le cose è andata avremmo fatto schifo letteralmente secondo me forse c'è ancora una zona si perché c'è un caricamento di sicuro siamo a fine gioco stanno allungando un pochino stanno allungando la bolla scoppi finirei nei guai non lanciano mi sembra giusto dai però sarei curioso di vedere cosa succede se scoppio bolla è un viaggio nel cuore sarei curioso sai bolloso sono bravo scusate ha inizio il piacere visibile no atti dove siete preso non per vantarmi ma quella è proprio favolosa vabbè niente niente è difficile riuscire sono bravo ho colpito mi sto colpendo il re ecco cosa succedeva vabbè niente anche quando prendi gli oggetti non ti prende la fotografia sembra giusto dai niente fatto preso un livello veloce questo peccato che non prende le fotografie il 90% delle volte questo è il museo più famoso di atlanta io ho paura di esatto i ballerini sono bravo questo corridoio è incasato preso dai mi sa che questo livello è tutto improntato è che devi riuscire a colpire a non colpire ho terminato le mie patte munizioni quella bolla ma ovviamente tu sei in difficoltà qua e sicuramente dovresti colpirla in un certo punto preso wow una bolla mi ho fatto schifo una stella di mare vince l'argento è andata meglio di quanto mi aspettavo abbiamo distrutto il vostro bene più prezioso che zucconi lo sanno tutti che quella non era la bolla vera ma solo una coppia per stupidi turisti questa è la vera bolla e ora scoppia eccolo lì chiamate la guardia reale di atlantide con che voce me lo stai dicendo vabbè guarda non ho nient'altro da aggiungere non ho nient'altro non ho nient'altro non ho nient'altro Grazie a tutti.